e ciao a tutti ragazzi prima di questo nuovissimo video vi faccio vedere questo video del set completo del film detective pikachu le carte trading card game abbiamo detective pikachu charizard gx mewtwo ix o gx gay ninja carte davvero belle questo è il set completo ubazauro ridicolo charmander psydark charizard bellissima questa carta arcanine detective pikachu anche alcuni doppioni mewtwo questo ce n'è assolutamente uno machamp gilipuff molto bello e poi c'è ditto e slacking e poi ci stanno i vari doppioni che ho e poi ci stanno le carte jumble come questo charizard gx spettacolare green ninja gx che ne ho due eccolo qua e mewtwo gx molto bella anche questa che è solamente uno e poi le bustine che sono riusciti a salvare e niente ragazzi questo era il set completo di pokemon detective pikachu e niente mettete vi piace commentate iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti belli